In corso la cabina di regia con Draghi, poi nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri per il Varo del decreto legge sul Green Pass, indispensabile già da domani per accedere al chiuso in ristoranti, palestre, piscine e musei. Salvini contrario all'inasprimento delle norme, previsto per scuole e trasporti. 48 milioni certificati verdi scaricati in Italia. Completato il ciclo vaccinale, da oltre il 62% degli italiani maggiori di 12 anni, sono quasi 33 mila e 500 mila le persone immunizzate, comunica il commissario straordinario Figliolo, che annuncia il superamento del traguardo delle 70 milioni di dosi somministrate tra prime e seconde. Il ministro dell'economia Daniele Franco chiarisce la linea del tesoro sul futuro di Monte dei Paschi. Non ci sarà svendita, ma unicredit è una soluzione strategica. Monte dei Paschi non può restare da sola, ma sul futuro della storica banca di Siena continua lo scontro politico. La Banca Centrale Europea prevede una forte crescita dell'economia per il terzo trimestre, una spinta che viene soprattutto dalle vaccinazioni che facilitano la ripresa delle attività economiche e dei consumi, ma resta l'incognita della variante Delta che potrebbe frenare importanti settori, a cominciare proprio dal turismo. Arriva dalla 20 chilometri di marcia il settimo oro per l'Italia con la vittoria di Massimo Strano. Il medagliere Arzuro si arricchisce anche dell'argento di Manfredi Rizza nella canoa sprint 200 metri e dei bronzi nel ciclismo su pista nel karate femminile nella 10 chilometri di nuoto con Gregorio Paltrinieri che va ancora una volta a medaglia. Buongiorno dal telegiornale della Sette, dunque ancora in corso la cabina di regia cominciata a mezzogiorno, presieduta dal Premier Draghi sul Green Pass e il tavolo vede ministri ed esperti perché poi alle 16 è previsto un consiglio dei ministri per varare quelle che saranno le nuove norme per un certificato verde che entra in vigore da domani, riguarderà i ristoranti al chiuso, le palestre, le piscine e i musei e potrebbe riguardare l'obbligo appunto del Green Pass anche il personale scolastico e i trasporti. Ma è su questo punto che si consuma il braccio di ferro con la Lega che cerca di frenare questa estensione. L'obiettivo estensione del Green Pass è vicino, ma ancora si tratta. Ultimi confronti e scontri si consumano all'interno e fuori della maggioranza. Con la Lega ha deciso a lottare fino all'ultimo per ammorbidire l'impatto del provvedimento su scuola, alberghi e trasporti e rimandarlo il più possibile. Un banco di prove impegnativo per l'esecutivo che vuole mostrarsi compatto. La tabella di marcia è serrata, la cabina di regia con gli esperti preceduta da un confronto con i due vertici del Comitato Tecnico Scientifico Locatelli e Brusaferro, un ultimo incontro con le regioni e infine alle 16.30 il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del decreto legge che punta come priorità ad estendere l'obbligo del Green Pass a tutto il personale scolastico, non agli studenti, da decidere quali provvedimenti prendere con gli insegnanti e personale ATA che rifiuteranno il vaccino. Le immunizzazioni nel mondo della scuola procedono velocemente, con disparità notevoli tra le varie regioni. Dati provvisori parlano di un 90% di vaccinati a livello nazionale, ma bisognerà attendere i dati definitivi richiesti dal generale Figliuolo entro il 20 agosto. Palazzo Chigi lavora anche per ridurre il costo dei testi diagnostici, obbligatori per chi non è vaccinato e vuole ottenere il Green Pass. Da 22 euro dovrebbero scendere a 15 o 10 euro, per i minori il costo si abbatterebbe ulteriormente. Riguarda i trasporti, l'esecutivo è deciso a richiedere il certificato verde per salire su aerei, treni, traghetti. Occorre decidere da quando introdurre l'obbligo. La Lega preme per far slittare la data il più possibile verso le prime settimane di settembre, mentre appare sospesa la decisione su metro e autobus. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, attacca il governo proprio su questo. Follia dice chiedere il Green Pass per entrare al ristorante e non per salire sui mezzi pubblici, che sono stati il cluster principale. Da domani intanto l'uso del Green Pass estende anche a bar e ristoranti. Per consumare al tavolino nelle sale al chiuso non serve al bancone. Sembrano esentati i clienti degli alberghi, ma questo aspetto deve essere chiarito. Non servirà per entrare in negozi e supermercati. Obbligatorio il passaporto verde per accedere a palestre, piscine, cinema, teatri, congressi, ma anche eventi e competizioni sportive all'aperto. Per ora il governo non sembra intenzionato a introdurre la quarantena per chi proviene da paesi europei ad alta densità turistica, come Grecia e Spagna. Di fatto per tornare a scuola in presenza e in sicurezza l'appello del governo è quello ai ragazzi di vaccinarsi, mentre sono state superate le 70 milioni di vaccinazioni con una quota di over 12 anni di 62% di italiani che hanno completato l'intero ciclo vaccinale. La campagna vaccinale prosegue spedita nonostante alcuni inconvenienti come l'attacco HACAR che ha messo KO il sito di prenotazioni della Regione Lazio e che nelle prossime ore dovrebbe essere ripristinato. Ad oggi sul territorio nazionale il 62% della popolazione sopra i 12 anni ha completato il ciclo. Nel complesso sono oltre 70 milioni le dosi somministrate, un buon risultato alla vigilia dell'entrata in vigore dell'estensione d'uso del Green Pass con l'approssimarsi del periodo più intenso per vacanze e spostamenti. A settembre con il ritorno sui banchi e la riapertura degli istituti scolastici e sul fronte vaccinazioni resta importante immunizzare anche i più giovani. Il direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas Alberto Mantovani che rivolge un appello direttamente ai ragazzi. Vaccinatevi anche per ritornare a scuola in sicurezza, una priorità. Il vaccino è una cintura di sicurezza come in auto ma da soli non ci si può proteggere al 100% se passiamo con il rosso, aggiunge. Non bisogna dimenticare le altre precauzioni, mascherina compresa. Ma è necessario raggiungere tutte le fasce della popolazione. A Milano è partito un progetto sperimentale per immunizzare le persone senza fissa dimora con delle vaccinazioni on the road destinate alle categorie più fragili. L'Agenzia Italiana del Farmaco continua il monitoraggio sugli effetti dei vaccini e nel settimo rapporto pubblicato sul sito dell'Agenzia riporta, per quanto concerne le possibili reazioni alla profilassi, un numero di reazioni gravi pari a 16 su 100.000 dosi. Nessun effetto letale dove per gravi vengono intesi un insieme di sintomi paragonabili a quelli dell'influenza stagionale, talvolta anche intensi, più frequenti secondo lo studio dopo la seconda dose delle preparazioni con RNA messaggero e dopo la prima di quella targata AstraZeneca, con cifre comunque in linea con gli altri paesi europei. Dal monitoraggio le reazioni gravi e lieve si sono verificate otto volte su dieci nella stessa giornata o il giorno successivo al vaccino, più raramente a due giorni dalla puntura. Ieri, secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute, sono state oltre 6.500 le nuove infezioni accertate da Covid a fronte di quasi 216.000 tamponi, il tasso di positività al 3%, 21 le vittime. Pressoché stabile la situazione nelle terapie intensive, 113 in più le occupazioni nei reparti ordinari. Parliamo adesso del caso Monte dei Paschi di Siena, dopo l'offerta di Unicredit, dopo le polemiche politiche e l'allarme del territorio. Ci sono state le parole del Ministro dell'Economia Franco davanti alle commissioni finanze di Camera e Senato. Sostanzialmente il Ministro dell'Economia ha spiegato quello che è il piano del governo per l'Istituto Senese, una vendita, non una svendita, ma di fatto una cessione inevitabile pur con un occhio di riguardo all'occupazione e all'indotto del territorio. Non chiuderemo ad ogni costo, ma c'è un'unica controparte che si è fatta avanti, è una trattativa che parte su basi solide. Il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, ieri sera di fronte alle commissioni finanze riunite di Camera e Senato, ha espresso con chiarezza la posizione del Tesoro, azionista di maggioranza di MPS, sui negoziati in corso per l'integrazione del Monte Paschi in Unicredit, che hanno sollevato e continuano a sollevare un enorme polverone politico. Da più parti giungono perplessità sull'operazione e si ventila una richiesta di proroga a Bruxelles dei Tempi, di uscita dello Stato dal capitale del Monte, fine anno in base agli accordi con la Commissione, mentre il centrodestra, da ultimo attraverso Maurizio Gasparri di Forza Italia, non smette di spingere sul tasto del conflitto di interessi del PD, con l'ex Ministro dell'Economia ai tempi della ricapitalizzazione precauzionale di MPS, Padoan, eletto a Siena, dove ora si candida Enrico Letta, e poi dimessosi per assumere la presidenza di Unicredit. Franco, comunque, come ampiamente previsto, ha rassicurato sul fatto che non ci sarà alcuna svendita di proprietà statali, né alcuno smembramento della banca più antica del mondo, la cui storia e il cui marchio rappresentano un valore da preservare e che verrà prestata la massima attenzione alla tutela dei lavoratori. Dall'altro lato, però, ha affermato il Ministro, non vi sono le condizioni per mettere in discussione la dismissione della partecipazione dello Stato in MPS. Del resto, ha aggiunto, se rimanesse solo il Monte Paschi avrebbe bisogno, in base ai risultati degli stress test resi pubblici la scorsa settimana dall'autorità bancaria europea, di un aumento di capitale ben superiore ai 2 miliardi e mezzo indicati dal piano industriale e in termini di esuberi di tagli ben maggiori dei 2.500 previsti. Ecco perché l'integrazione con una banca più solida, che ha assicurato Franco, verrà condotta nel rispetto delle regole della concorrenza, rappresenta la soluzione strategicamente superiore nell'interesse del Paese. Possibile che, al termine dell'operazione, lo Stato possa ricevere azioni di Unicredit, ma senza alterare gli equilibri di governance. Parole che non hanno rassicurato il Sindaco di Siena De Mossi, mentre il Presidente della Regione Toscana, Gianni, vede di fatto con favore una richiesta di proroga a Bruxelles, con lo scopo di trovare, nei tempi supplementari, un soggetto di pari dimensioni che non inghiotta né incorpoli MPS. Intanto l'economia dell'area euro dopo la ripresa del secondo trimestre procede spedita verso un forte rialzo nel terzo trimestre. Sono le previsioni della Banca Centrale Europea nel suo bollettino mensile, nel quale la banca stessa avverte di quelli che sono, come sempre, i rischi regati proprio alla Covid, alla variante Delta, che potrebbe frenare questo slancio. Ripresa economica. Da Francoforte arrivano segnali di grande ottimismo, accompagnati da un pizzico di prudenza. Secondo l'ultimo bollettino mensile della Banca Centrale Europea, l'economia dell'area euro, dopo il recupero del secondo trimestre, procede verso una forte crescita nel terzo trimestre. Tutto merito dell'accelerazione della campagna vaccinale anti-Covid, dell'allentamento delle restrizioni e della riapertura di ampi settori dell'economia. Cresceranno in particolare i manifatturi aero e servizi. Attenzione, però, e qui sta l'avvertimento dell'Istituto di Francoforte. La variante Delta del coronavirus resta una fonte di crescente incertezza e potrebbe smorzare la ripresa soprattutto di servizi come turismo e ospitalità. In risalita anche la fiducia delle imprese che tornano a investire. Man mano che la clientela torna a frequentare negozi e ristoranti, si legge nel bollettino, la spesa per consumi cresce, sorretta dal miglioramento delle prospettive occupazionali, dall'aumento della fiducia e dal continuo sostegno dei governi. La ripresa in atto della domanda interna e mondiale accresce l'ottimismo delle imprese, favorendo gli investimenti. Per la prima volta dall'inizio della pandemia, l'indagine sul credito bancario dell'area dell'euro indica che il finanziamento degli investimenti costituisce un'importante determinante della domanda di prestiti da parte delle imprese e questo accade soprattutto in Francia, Italia e Spagna. Di questo passo, prevede la BCE, l'attività economica potrebbe tornare a livello pre-crisi nel primo trimestre del 2022, ma c'è ancora molta strada da fare prima che i danni economici causati dalla pandemia siano ripianati. A partire dall'occupazione che registra ancora 3,3 milioni di occupati in meno rispetto al periodo precedente al Covid. Sul fronte inflazione con la ripresa dell'economia e le misure di politica monetaria adottate dal Consiglio Direttivo, si registrerà un aumento dei prezzi nel medio periodo, ma resterà sotto il target del 2%, quindi la Banca Centrale non aumenterà i tassi finché l'inflazione non sarà stabile al 2%. Subito ringraziano le borse europee che, dopo un'apertura in negativo in seguito alla notizia di un possibile aumento dei tassi a inizio 2023 da parte della Fed, hanno virato in positivo grazie alle rassicurazioni della BCE. Parliamo adesso dei giochi olimpici in corso di svolgimento a Tokyo perché oggi è arrivata la settima medaglia d'oro per l'Italia ed è arrivata grazie a Massimo Stano che ha vinto la 20 chilometri di marcia. Si tratta del sesto italiano nella storia ad aggiudicarsi questo titolo in una giornata che ha arricchito peraltro ancora il medagliere azzurro con un altro argento e ben tre bronzi. Un oro, un argento e tre bronzi. In una sola giornata l'Italia si costruisce più di un intero podio di medagliati portandosi con 35 trofei ad una sola lunghezza del record di Roma 1960. Il trofeo più prezioso per il metallo ma anche per come è arrivato e per la tradizione che l'Italia ha in uno sport di assoluta sofferenza è quello del pugliese Massimo Stano nella 20 chilometri di marcia. Il 29enne di Palo del Colle ha condotto una gara d'attacco andando in fuga insieme a due giapponesi che ha staccato in vista del traguardo nonostante un'ammunizione da parte dei giudici per sospensione ovvero di stacco di entrambi i piedi dal suolo. Stano ravviva così la tradizione azzurra. Sei sono gli ori olimpici degli uomini nella disciplina. Nella distanza più breve l'ultimo trionfo fu di Ivano Brugnetti nel 2004 mentre nella 50 chilometri è stato il grande escluso di questi giochi Alex Schwazer a salire sul podio per ultimo Pechino 2008. Anche l'argento numero 10 della spedizione di Tokyo è arrivato da uno sport che ha dato grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Nella gara più breve del programma di Canoa, il K1 200, Manfredi Rizza, trentenne lombardo già ora europeo, ha aggiunto un nuovo trionfo al termine di 35 secondi senza respiro. Ci è voluto il ricorso al photo finish per definire il podio. Tra il vincitore ungherese Totka e Rizza la differenza è stata di soli 45 millesimi di secondo. A completare quello che è il quattordicesimo giorno consecutivo che vede l'Italia sul podio, anche questo un record, sono poi arrivati tre bronzi. Quello della karateka Viviana Bottaro che ha sconfitto la statunitense Kokumai, ultimissimo in ordine di tempo. Due ore prima era stato invece Elia Viviani a risalire in classifica nell'omnium, la prova su pista che somma punteggi ottenuti in varie gare. Viviani, nostro portabandiera nella cerimonia di apertura e campione olimpico uscente, ha compiuto una grande rimonta nella seconda parte del programma, dopo che nelle prime prove non era riuscito ad entrare tra i primi dieci. Ma a dare il via a una giornata che forse non è ancora finita, ci aveva pensato Gregorio Paltrinieri, dieci chilometri di lotte e di governo, bracciata dopo bracciata, per un'impresa mai riuscita nella storia natatoria del nostro sport. E' appunto questa di Gregorio Paltrinieri, un'impresa che merita di essere sottolineata, anche perché Paltrinieri è riuscito a mettersi, unico tra gli azzurri, al momento due medagli ad collo, il bronzo di questa mattina appunto a cui avete visto già un accenno nel servizio dopo aver vinto l'argento negli 800 stile libero, ma soprattutto dopo aver superato problemi di salute che hanno preceduto questa Olimpiade. Il bronzo della tenacia, la medaglia del cuore oltre che della fatica. Gregorio Paltrinieri è uscito dal caldissimo mare del Giappone con un altro alloro olimpico, il primo per il fondo azzurro maschile nella storia dei giochi e pensare che a Tokyo ha rischiato addirittura di non poterci essere. La mononucleosi che lo ha colpito all'inizio di giugno ne aveva fiaccato il morale, il fisico, ma non la classe. Negli 800 stile libero ha stupito con un argento dovendosi arrendere ad una condizione precaria soltanto nei 1500, dove ha chiuso quarto consegnando il titolo di Rio 2016 all'americano Fink. Per chiunque il segnale di serbatoio vuoto, ma non per il 26enne campione di Carpi. Splendido oggi nella 10 chilometri, la prova più massacrante nella quale si è presentato da esordiente, diventando il primo italiano a salire sul podio dei giochi sia in piscina sia nelle acque libere. Una maratona di un'ora e cinquanta scattata alle 6.30 del mattino. Paltrinieri è stato straordinario nella capacità di sopportare la stanchezza. Dopo una gara sempre in rimonta ha difeso fino all'ultimo la terza posizione alle spalle del tedesco Welbrock e dell'ungherese Rasovski. È la giusta ricompensa dopo due mesi d'inferno il suo commento. È dalle fiamme soltanto un fenomeno come Greg poteva uscire indenne. Era venuto qui per tre ori. Ci riproverà a Parigi 2024 perché, come dice Fabrizio Antonelli, il suo allenatore, Paltrinieri è qualcosa in più di un miracolo. 170 vigili del fuoco, 50 camion antincendio, 6 mezzi aerei, un piccolo esercito, praticamente quello che in Grecia in queste ore sta combattendo contro il rogo che da ieri minaccia il sito archeologico dell'antica città di Olimpia. Le fiamme hanno già distrutto decine di case, 6 villaggi limitrofi sono stati evacuati. Il fuoco adesso attacca i boschi al nord-est della zona. Ad Atene la situazione resta molto preoccupante perché è stato chiesto ai cittadini di restare a casa. Gli incendi ancora interessano i quartieri al nord della capitale inquinando l'area con una coltre di cenere e di fumo. Le autorità temono una replica dell'emergenza del 2018 quando per i roghi nei pressi della città costiera di Mati morirono 102 persone. Andiamo adesso in Afghanistan dove si combatte per cercare di arginare l'avanzata dei talebani verso Kabul. L'Unione Europea preoccupata chiede immediato cessate il fuoco. L'Occidente che ha abbandonato l'Afghanistan ora chiede a gran voce e moderazione a chi immane la sua storia ha dimostrato di possederla i talebani. Lo ha fatto poco fa l'Unione Europea intimando un urgente, comprensivo e permanente cessate il fuoco. Prima era toccato al Consiglio di Sicurezza a condannare nei termini più forti i molti casi di attacchi deliberati contro i civili invitando i rappresentanti talebani ad impegnarsi nel processo di pace. Parole però che cadono nel vuoto in quella che ormai è una guerra che si combatte ovunque con i talebani che dalle province di confine cercano di conquistare le cittadine principali e di convergere verso la capitale Kabul nella quale compiono attentati per destabilizzare il governo. L'ultimo questa mattina con un'autobomba che ha fatto diversi morti. Ieri invece gli studenti coranici hanno cercato di eliminare sempre con un ordigno il ministro della difesa Bismillah Khan. La risposta delle forze speciali afghane si concentra soprattutto all'Ashkargah nella provincia meridionale di Elman dove centinaia di civili sono asserragliati nelle proprie abitazioni e le forze di governo dopo un serrato bombardamento ed un tentativo di evacuazione. Ora cercano di stanare i talebani casa per casa. Il presidente Ashraf Ghani in un discorso alle Camere riunite del Parlamento continua a sostenere che entro sei mesi la situazione tornerà stabile ed ancora una volta critica gli Stati Uniti per la scelta improvvisa di abbandonarli. Ghani è tornato anche a puntare il dito sull'accordo di Doha tra americani e talebani che gli impone di liberare i prigionieri talebani i quali nonostante i divieti tornano immancabilmente a combattere. La guerra civile crea inoltre un fiume di profughi tra coloro che hanno aiutato e sono poi stati abbandonati dalle truppe occidentali o semplicemente tra chi fugge dalla violenza. Il confine più vicino per molti è quello turco o pakistano con il Pakistan che sta alzando un muro che potrebbe fare invidia a Donald Trump mentre Ankara con già centinaia di migliaia di siriani nei campi profughi a sud proprio ieri è tornata a lamentarsi con gli Stati Uniti sottolineando che senza uno sforzo comune non potrà accogliere chi fugge dalla guerra afghana. Le piogge abbondanti dei giorni scorsi, delle ultime ore sul Comasco, sull'intero bacino dell'Adda hanno fatto esondare il lago di Como, l'acqua ha invaso il lungolago, lo vedete dalle immagini, alcune strade della città, il traffico è stato deviato sulle strade interne ma per la viabilità si teme quello che potrà accadere domani con la ripresa di un cantiere sulla 9 lainate Como Chiasso che dirotterà appunto sulla circolazione ordinaria il traffico pesante dal nord dell'Europa. Per mal tempo tra l'altro ieri sera si è resa necessaria l'evacuazione di 120 persone in un campeggio a Dervio, un allarme poi rientrato oggi. Parliamo adesso del lavoro dopo i nuovi recenti casi di incidenti mortali. Ieri c'è stato un colloquio tra il Capo dello Stato e il Ministro del Lavoro Orlando che ha ribadito l'impegno e l'attenzione del Governo sul tema delicatissimo sempre della sicurezza sul lavoro nel nostro Paese. Mentre a Modena proseguono le indagini per quell'incidente che due giorni fa è costato la vita ad una donna di 40 anni. Capire perché la fustellatrice non si è bloccata, se è stata una fatalità o si sarebbe potuta evitare la morte di Laila El Harim. L'operaia quarantenne è rimasta schiacciata dalla macchina su cui stava lavorando nella fabbrica Bombonette di Camposanto martedì mattina. Da ieri una persona è iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Modena, illegale rappresentante dell'azienda che fa capo alla famiglia Setti. Un atto dovuto per compiere gli accertamenti sul macchinario e cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Laila sarebbe stata trascinata e poi schiacciata dalla grossa macchina che sagoma il cartone delle confezioni dei dolciumi. L'apparecchio ha un meccanismo di bloccaggio che sarebbe però scattato solo per attivazione manuale. Ciò ha consentito, scrive l'ispettorato del lavoro nella sua relazione, un'operazione non sicura che ha cagionato la morte per schiacciamento. Nei prossimi giorni l'autopsia potrebbe fornire dettagli utili. Per ora non si scarta neanche l'ipotesi di un malfunzionamento. Laila teneva un diario, dice il suo compagno intervistato dalla Repubblica, e aveva notato diverse volte negli ultimi giorni problemi tecnici e la presenza dell'elettricista attorno a quella macchina. L'operaia di origini marocchine lascia una figlia di quattro anni. Il suo tragico incidente riporta l'attenzione sulle morti sul lavoro. Il presidente Mattarella ha chiamato ieri il ministro del lavoro Orlando per avere informazioni sull'azione del governo per la prevenzione delle morti bianche. Il diritto al lavoro e diritto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, aveva detto il presidente lo scorso primo maggio. Il tema è sottoposto a una costante e incisiva attenzione, lo ha rassicurato il ministro Orlando, che questa mattina ha incontrato le parti sociali insieme al ministro della Salute Speranza per fare il punto sui protocolli anticovide nei luoghi di lavoro. La strada da fare sul fronte prevenzione è ancora tanta. Solo nei primi mesi di quest'anno l'Inail ha registrato 538 vittime, tre al giorno. Numeri inaccettabili. Da oggi molte aziende del settore cartotecnico e non solo hanno proclamato scioperi per l'aila e contro tutte le morti bianche. Carabinieri e Polizia Spagnola hanno arrestato a Madrid il latitante di indrangheta Domenico Paviglianiti. Deve scontare 11 anni e 8 mesi per associazione di stampo mafioso, omicidio, traffico di sostanze stupefacenti. Paviglianiti, rimesso in libertà nell'ottobre del 2019 sulla base di un errore di calcolo della sua pena, aveva lasciato l'Italia e si era rifugiato in Spagna. Era stato condannato all'ergastolo, pena poi sostituita con la reclusione a 30 anni ed è ritenuto un elemento apicale della cosca di San Lorenzo che opera nella provincia di Reggio Calabria con ramificazioni nel nord Italia, in particolare in Lombardia e nel Sud America per quanto riguarda la gestione del traffico internazionale di stupefacenti. Un'ultima ora riguarda la cabina di regia che si è conclusa, si è aperto un tavolo tecnico adesso con le regioni, il Green Pass sarà obbligatorio per il personale scolastico e questo è quello che è emerso durante questa riunione di governo tecnica che sta valutando le misure all'esame del Consiglio dei Ministri, poi previsto per questo pomeriggio e completerà il pacchetto di misure aggiuntive sull'utilizzo del Green Pass. Parliamo ancora di sport solo per ricordare che oggi c'è la presentazione del calendario del campionato di calcio femminile di cui la 7 ha acquisito l'esclusiva in chiaro per i prossimi due anni, una stagione che porterà il movimento e lo ricordiamo al professionismo e che ridurrà a 10 le attuali 12 squadre. Una formula infatti che prevede tre retrocessioni e una sola promozione, una nuova sfida anche per la nostra emittente che trasmetterà in chiaro una partita di campionato a settimana per un totale di 28 incontri, oltre chiaramente alla Supercoppa e alla fase finale della Coppa Italia. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo per eventuali aggiornamenti. Allora non ci sono altri aggiornamenti di rilievo, chiudiamo questa edizione del telegiornale, vi ricordo il prossimo appuntamento alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio sulla 7.